Domani scadono gli apparentamenti, ci sono novità per Gian Guido d'Alberto? No, noi siamo rimasti fermi con una linea di coerenza fin dall'inizio, nessun apparentamento tecnico formale, si va avanti con questo progetto di discontinuità, di rottura rispetto al passato che ci contrappone oggi in questo ballottaggio con maggiore forza rispetto alla coalizione guidata da Morra che in realtà è la stessa identica coalizione che ha amministrato Teramo fino a ieri, ha lasciato questa città al commissariamento. Non teme la percentuale che la divide da Morra? No, perché noi stiamo parlando alla città e vogliamo chiamare a raccolta tutte le forze civiche, politiche, tutti i candidati che in questo primo turno si sono schierati contro il sistema di potere che ha lasciato questa città al commissariamento qualche mese fa e vogliamo parlare soprattutto alla città, a tutte le associazioni, a tutte le forze che in questi mesi, in questi anni in realtà e in questa campagna elettorale hanno dimostrato una voglia di cambiamento forte e noi vogliamo rappresentare ed incarnare in questo ballottaggio questa voglia di cambiamento. Ci hai parlato di un dialogo tra lei e Cavallari, verso cosa state andando? Noi ci siamo sentiti, ho chiamato Giovanni e ho ribadito questa che è una linea che ci siamo dati come coalizione fin dall'inizio cioè un dialogo, un confronto sui temi, un confronto sui temi programmatico per costruire un'alternativa su temi e metodi e per fare un ragionamento e aprire un dialogo senza che ci siano scambi di poltrone o discussioni legate all'apparentemente tecnico-formale. Ha un appoggio da Cavallari in maniera informale, lei se lo aspetta? Io ripeto, con Giovanni abbiamo sempre lavorato insieme e anche al primo turno mi sembra che ci sia stata una comunione di intenti nell'esprimere una contrarietà rispetto a chi ha amministrato questa città fino a ieri quindi come altri candidati hanno manifestato al primo turno quindi io credo che ci siano assolutamente le condizioni per cui si possano costruire le basi per un progetto alternativo largo rispetto al centro-destra che vuole riproporsi ad amministrare questa città con gli stessi protagonisti e gli stessi soggetti di prima.